Fai un saluto, fai un augurio a Matteo HS, a Matteo HS. Matteo HS, io voglio, buon compleanno. E basta, io voglio andare, continua. Io vorrei andare a Chiavotaro perché stanno iniziando i programmi e anche a tutti quei quasi perché sono tutti comodi. Ah, ma? A Dante Mattello no, perché la sento io, metto in sé a tutti i quali. Perfetto, adesso l'ultimo, 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 un saluto a Dario Moccia. A Dario Moccia, sto cazzo.